Buongiorno, benvenuti a questa storica videoanalisi del 9 novembre 2016, videoanalisi che potete ricevere gratis via email se cliccate sulla scritta sopra la mia testa, videoanalisi realizzata insieme al broker STO, alla mia destra il sito internet, sotto di me i contatti, eccolo lì che sbuca proprio adesso, Marco Pianezza di STO, ufficio di Milano 02 e anche la sua email. Ebbene, care signore e signori, abbiamo il nuovo presidente americano e ancora una volta sondaggi all'aria che non contano nulla. Ora mai, ricordiamoci per la prossima volta, visto che ho già un'esperienza a Prescott, Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Vediamo una carrellata, ho preparato qui i siti italiani, 2,90 rispetto al 2,70 previsto, ha vinto praticamente tutti quegli stati in bilico dove si giocava la partita. Vedete, qui sul palco ha già fatto il suo discorso, telefonata della Clinton che non si è mostrata ancora in pubblico, non ha messo la sconfitta pubblicamente, ma ha fatto giusto Trump, ha detto che ha ricevuto una chiamata. Questo è il sito della Repubblica, incredibile, incredibile, eccolo lì, incredibile quello che è successo. Vediamo il sito anche della Rai, Trump alla casa bianca, schiaffo all'establishment, davvero l'America ha scelto sconfitta la democratica Hillary Clinton che telefona per concedere la vittoria, dove c'è scritto che Obama, non importa cosa accadrà, domani sorgerà il sole, questo è fuori di ogni dubbio. Vediamo anche il sole 24 ore, la foto è sempre quella, Trump sarà il presidente di tutti gli americani e c'è stato un terremoto, anzi forse è meglio non usare il terremoto, mannaggia, fine sempre, scusate, chiedo scusa, e c'è stato ovviamente movimenti incredibili sui mercati. Vediamoli con la piattaforma di STOMT4, questo è il grafico dell'indice Nikkei di Tokyo, dove avevano disegnato un po' tutti gli indici, si erano ripresi questa settimana, inizio settimana, con le dichiarazioni di domenica scorsa sera dell'FBI, direttore dell'FBI, che aveva un po' fatto rientrare quello che era stato il polverone email gate per l'ennesima volta. Quindi i sondaggi davano per vinta la Clinton, da una vittoria alla Clinton, i mercati stavano reagendo, dopo che c'era stata la correzione dalla settimana precedente, quando il direttore del FBI ha detto abbiamo trovato nuovi email della Clinton, e ora guardate la precisione dove è andato a fermarsi il movimento dell'indice Nikkei. Su quella famosa area, 16.000 punti, la parte bassa del canale, del trading range, praticamente all'interno del quale l'indice era ormai tutto il periodo pre-elettorale, in attesa delle elezioni americane. Quindi per il momento tiene il supporto, lo abbiamo detto anche insieme ad Angelo Ciavarella nell'appuntamento classico del lunedì, probabilmente vittoria di Trump, reazione emotiva dei mercati, però attenzione, così come sempre è stato detto, i mercati non si schierano politicamente. Voglio una certezza, se Trump sarà in grado di mettere su una squadra, un team di governo tale, che andrà a proporre un programma che piacerà ai mercati, e poi è ovviamente fattibile, pare anche che abbia adesso il controllo, tutte e due le camere al Parlamento, quindi veramente pieni poteri per quanto riguarda Trump. Trump che bisogna dire, veramente ha vinto contro tutto e tutti, contro il partito, contro chiunque, bisogna comunque dare atto insomma di questa sua vittoria. E quindi, graficamente parlando, dopo questa reazione emotiva, calma e sangue freddo, se siete in posizione, se avete voluto rischiare, quindi essere dentro in un momento così, comunque era incerto, l'esito, perché i sondaggi ormai, ripeto, non sono attendibili al 100%, quindi se siete in posizione, mantenete ancora fede a quella che è la vostra strategia, prendete, se avete usato dei livelli di riferimento, supporti e resistenze di stop, però, è sempre bene usarli, quindi c'è un indice Nikkei Tokyo, che però, vedete, già recuperato, ha toccato, sperate, 16.000, siamo a 16.780, vediamo gli indici americani, e anche qui, guardate fino a dove, questo è il Nasdaq, è arrivato fino a qui in basso e ora siamo a 4.700, quindi comunque dopo la reazione emotiva, i mercati stanno reagendo e siamo sopra il supporto per il momento, questo qui di 4.670 del Nasdaq, 2.090 per l'S&P 500, questo è il Dow Jones, 18.109, dopo che addirittura 17.500, aveva toccato anche un minimo, movimenti assurdi, vediamo gli indici europei, dove anche qui, dopo l'ondata iniziale di vendite, si stanno, sta un po' rientrando, però, attenzione, attenzione, non sappiamo cosa potrà accadere, con la vittoria di Trump è tutto un punto interrogativo, quindi, vedremo, vedremo, grafici ci dicono che il nostro indice è andato lì a solleticare il supporto dei 16.100 punti, questo, ecco, metto magari tutto a schermo, così potete vederlo anche meglio, quindi vedete si è avvicinato 16.100 punti, in questo momento siamo a 16.500, il DAX per un attimo era anche sotto il supporto 10.265, siamo a 10.400 in questo momento, questo è l'Eurostox, comunque sopra il supporto 2.911, l'indice francese, sopra il supporto 4.325, l'indice inglese e infine l'indice spagnolo, come vedete, quindi siamo ancora in una situazione di tenuta dei supporti, sell off con la notizia, si sapeva, insomma, questa era una certezza, se diceva Trump, crollo dei mercati, perché avevamo già visto quando la sera di venerdì 28 ottobre era arrivata la dichiarazione del direttore dell'FBI, che aveva trovato altri mail della Clinton, già avevamo avuto un assaggio di quella che poteva essere la reazione dei mercati in caso di vittoria di Trump e stiamo avendo adesso la conferma, ma non è detto che continuerà questo movimento a ribasso, ma io adesso voglio vedere, tra le tante curiose situazioni nuove con Trump, sicuramente per noi che seguiamo i mercati, Trump è la Yellen, quante gliene ha dette alla Yellen, resterà al suo posto? Tanti, tanti punti interrogativi, insomma, in questa vittoria di Trump. Vediamo un po' di asset in dollari, dove sono stati anche qui forti vendite, ecco qui questa rappresentazione, ecco USDCAD era arrivato addirittura, vediamo, sotto 1,35 e 24 e adesso siamo 34,03, oltre 100 pips sotto una figura, da il massimo toccato, questo è il petrolio che comunque tiene sopra il supporto 43,85 gold, guardate gold che cosa ha fatto, mamma mia, vediamo il massimo toccato dalla piattaforma STO, 1.337 dollari e adesso sotto i 1.300, mamma mia che volu' in volatilità, è quella che avevamo detto, ci aspettavamo, insomma, in caso di vittoria di Trump, soprattutto in caso di vittoria di Trump, perché anche con la Clinton probabilmente, forse avremmo visto una reazione al contrario positiva e poi che rientrava in base a quello che sarebbe potuto stare, la vittoria netta o meno, anche maggioranza in entrambe le camere, ma oramai è tutto passato, la realtà dice che Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti, questo l'euro-dollaro schizzato a un certo punto fino a 1.1299, 1.13 quindi, dollaro invece franco-svizzolo fino a 1.09546 sul supporto, quindi vedete, sono tutti rientrati sotto i livelli supporti e resistenze, per il momento stanno tenendo duro, ma tengono. Questa è la sterlina e guardate dollaro-yen, povero curoda, adesso cosa starà facendo, però non ha toccato il minimo 99 quando c'è stato Brexit, comunque una reazione più contenuta rispetto a quello che è stato quando fu il 24 giugno, la notte tra il 23 e il 24 giugno. Tra altre cose, ricordo benissimo quando fu Brexit che il voto, la notte del 23, proprio verso l'una, stavo andando a dormire e ci fu la notizia, i primi rumori che arrivavano da Sunderland, che poi da lì è partita tutta l'inversione, la sterlina che era 1.50 ed è crollata, ieri Florida, verso l'una, passata l'una, Sunderland e Florida, dalla Florida sono arrivati i primi segnali di una possibile sorpresa che poi c'è stata. Quindi questo è Forex, vediamo anche mercato obbligazionario con questa reazione dei mercati, qui in alto, 10 anni quello americano, 10 anni inglese, 10 anni Bund e il nostro 10 anni italiano, dove vedete lo spread si allarga col Bund che va sopra, BTP che scende, e quindi, insomma, situazione incredibile, incredibile quello che abbiamo visto. Vediamo un po', grafici, titoli bancari, giusto per avere una fotografia anche della situazione, questo è un MPS, non vi dico che cosa sta succedendo su MPS, questo è intesa, questo è Unicredit, Banca Popolare Emilia Romagna, Mediobanca, Banco Popolare, Popolare Milano, che sta proprio qui testando questo supporto, 0,33 e 27. Insomma, cosa dire, per il momento calma e sangue freddo se siete in posizione, chi non ha rischiato ha già guadagnato di salute, chi ha rischiato ha guadagnato complimenti, anche chi è rimasto fermo complimenti lo stesso, perché ha ottenuto già un guadagno sicuro a quello di salute, che è altrettanto importante, se non più importante dei soldi, e quindi adesso vedremo. Quindi oggi reazione emotiva dei mercati, con supporti e resistenze che comunque ancora tengono, perché bisogna aspettare la chiusura giornaliera per avere la conferma o meno, vedremo partire da domani se cosa accadrà, insomma seguiremo come sempre giorno per giorno, anche attraverso questa videoanalisi Intermarket. Arrivederci, buona giornata a tutti. Grazie.